Benvenuti su Ciper TV, oggi è lunedì 14 gennaio 2019, iniziamo un'altra settimana e la iniziamo subito con un 10 minuti EMOM dove faremo un complex di Muscle Up, Chest to Barrier Pull Up. A seguire un 4 time, 1000 metri raw oppure 8,50 per le ragazze, 20 Muscle Up, 7 round Strictly Cindy. Pesi scalature come al solito sulla grafica qui di fianco, ci ritroviamo domani per un'altra classe insieme su Ciper TV. Buona giornata!